quindi vuol dire che funziona. I signori danesi, e questo secondo me è l'esempio al quale dovremmo attingere noi giornalisti italiani se non altro per questioni numeriche, i signori danesi che hanno potuto beneficiare in fase di start up di un finanziamento pubblico perché questo team di esperti governativi ha ritenuto sostenibile il loro business, quindi gli hanno dato dei soldini se non sbaglio intorno ai 400 mila euro, che non sono pochi per lanciare una piccola impresa giornalistica, hanno raggiunto dopo pochi mesi 6 mila abbonati che pagano 13,31 euro al mese, 40 corone. Quando ho intervistato Lea e le ho chiesto ma secondo te voi avete un'idea di chi è il vostro lettore tipo? Lei mi diceva guarda sono persone come tante altre che semplicemente non sono stupide e non è che avevano smesso di pagare perché non gli interessa informarsi, avevano smesso di pagare di comprare i giornali perché non trovavano più quello che volevano e quando gli ho detto ma che tipo di giornalismo fate mi ha spiegato che loro scrivono intorno ai 5 pezzi al giorno mediamente e in questi pezzi fanno grandi spiegazioni delle notizie del giorno o del giorno prima o di una settimana prima, cioè non sono ossessionati alle braking, escono dal flusso e cercano di fare una cosa di alta qualità.